Grazie 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 uela Arpit wey destiny Ando! Dai ragazzi! Dai! Dai! Forza! Dai! Dentro! Vero! Vero! Dai 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 dai! Ci dai poi gioco! Dai 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 Erics, sono i due! Gioca! Erics, sono i due! Gioca! Rimando! Ha paura? Sì, non ce l'è! Scontro! Bravo, bravo! Dai Rico, bravi! Dai, dai, dai! Tutto, vai dentro! Sono sul fine di mezzo. E fallo! E fallo! E lo fanno sul portiere, comunque! Il 15! Teo ha girato, tienilo lì! Bravo, Teo! I nove! I nove! Torca i due suoi. Via, via! Via, via! Via, via! Occhio, occhio, Steo, c'era indietro, Steo! C'era, c'era, va bene! Sì! Chiedi dov'è? La distanza... Chiedi dov'è? Vieni le mani! Vai batti sta punizione! Vai c'è il mio! Sì che passa! Sì! 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 Grazie a tutti